Filippino Lippi ebbe numerosi committenti importanti e tra questi certamente spicca Filippo Strozzi. La storia stessa della famiglia Strozzi è affascinante ed è uno spaccato della storia del 400 fiorentino. Esiliati gli Strozzi per troppo potere che dava ombra ai medici, a lungo dovettero vagare i maschi della famiglia, tra cui il giovane Filippo e farsi largo nel mondo della mercatura con base a Napoli. La madre, Alessandra Macinghi Strozzi, teneva le fila di questa famiglia dispersa con lettere che sono rimaste negli annali della storia del Rinascimento. Ma ecco che sul finire del XV secolo Filippo Strozzi e i suoi familiari sono nuovamente ammessi a Firenze e qui comincia il loro riscatto in termini di prestigio sociale e di magnificenza architettonica. Dunque Filippo fonda e non riesce a veder concluso il bellissimo palazzo nel cuore del centro fiorentino e soprattutto acquisisce i diritti su una cappella in una posizione importantissima nell'abside della chiesa domenicana di Santa Maria Novella, la cappella che diventa la sua sepolcrale con un bellissimo sepolcro appunto di Benedetto D'Ammaiano alla base e poi per l'ondamento pittorico delle lunghissime pareti che sono un capolavoro di architettura gotica viene chiamato questo Filippino Lippi, pittore ormai affermato, che aveva una genealogia artistica illustre, figlio di Filippo, allievo di Sandro Botticelli ed era ormai un maestro autonomo e ben conosciuto. La cappella per Filippo Strozi occupa nella carriera di Filippino un posto veramente speciale perché dopo averla iniziata negli anni 80 del 400 fu immediatamente chiamato a Roma a lavorare per il cardinal Carafa in Santa Maria Sopra Minerva e partì perché questa commissione veniva dalla raccomandazione diretta di Lorenzo il Magnifico e non poteva rifiutarla. Conclusa la cappella Carafa tornò e lavorò in maniera definitiva, ultimativa nella cappella Strozi. Dunque la cappella Strozi fu un cantiere che rimase interrotto a lungo ma sempre occupando nel cuore di Filippino un posto importante e fu concluso quando già il committente era morto nei primi anni del cinquecento. La scelta dei soggetti sicuramente fu concordata tra il committente e l'artista. Si trattava di rendere omaggio a San Giovanni e fu scelto San Giovanni Evangelista e di rendere omaggio al santo protettore del fondatore della cappella Filippo, quindi l'apostolo Filippo attraverso per entrambi i santi il gesto più clamoroso, quello di un grande miracolo e poi per entrambi il martirio. Quindi le due pareti laterali sono organizzate nelle lunette in cui si vede il martirio di San Giovanni bollito in un calderone d'olio, non fu il martirio definitivo perché il santo sopravvisse a quella prova e fu poi decapitato e tuttora a Roma si può visitare la chiesa di San Giovanni in oleo dove c'è testimonianza del suo martirio. Sotto il miracolo della resurrezione di Drusiana, imbattendosi per via in un corteo funebre, il santo fa risuscitare una giovane sposa avendo fatto fermare appunto i portatori della salva. L'altra parete è dedicata a San Filippo, abbiamo in alto il suo martirio in Asia minore, crocifisso alla presenza di alcuni minastanti e sotto un miracolo clamoroso, cioè in primo piano il santo che respinge nella buia caverna dalle quali è emerso un demone in forma di mostro fumigante e puzzolente che rappresenta il paganesimo uscito da un altare dedicato a Marte. Filippino si è impegnato straordinariamente per queste storie così come per la parete di fondo dove sono in maniera molto artificiosa e molto sofisticata concatenati elementi di architettura illusionistica, virtù e angeli simbolici che tengono cartelle pendenti con motti e nell'insieme un'allegoria anche della musica antica come elemento di riscatto dell'anima dal peccato e avvicinamento verso Dio. Infine nella volta quattro patriarchi della Bibbia cominciando dal padre Adamo sorvegliano questo sistema di immagini. Le storie laterali sono quelle dove la fantasia straordinaria di Filippino alimentata anche dal viaggio a Roma che lo aveva posto in contatto con l'antichità si esprime al massimo livello. Dunque restano memorabili i suoi sfondi di città piene di templi, di torri, di idoli pagani e l'altare fantastico di Marte dove il Dio è una sorta di simulacro vivente dai colori naturali ed è affiancato da un lupo la cui Pelliccia impressionò per la vivezza, la freschezza straordinaria della pittura, gli stessi contemporanei e che lancia addirittura un'ombra come una creatura che si muove sull'abside di questo tempio così come sono straordinari i costumi degli astanti, costumi di un'immaginaria contrada barbara addirittura con caratterizzazioni non solo orientale ma con qualcosa di ancora più esotico e che rispecchiano la lontananza di quei popoli rispetto all'azione di evangelizzazione dell'Apostolo. La gamma cromatica di questi affreschi è straordinariamente ricca e varia da quella che allude all'architettura, il colore della pietra, il colore del mattone, del marmo e che si sforza addirittura di illudere l'osservatore. È rimasto nelle pagine del Vasale il racconto del garzone di Filippino che illuso dalla buca dipinta ai piedi dell'altare cerca di nasconderci dentro un oggetto e urta invece la mano col muro, quindi il tema dell'illusione percorre l'intera decorazione pittorica. Per contrasto risaltano gli abiti delle figure che sono straordinariamente ricchi di intonazioni cromatiche anche vivacissime, verde smeraldo, blu lapislazzuli, il rosso, l'arancio, tutte note di colore nelle quali Filippino dà il meglio della sua tavolozza vivida e cangiante, quale la vediamo anche nella Madonna qui alle mie spalle, prestata dal Metropolitan Museum of Art di New York e destinata anch'essa alla devozione della famiglia Strozzi.